Il Consiglio di Presidenza, riunitosi oggi, ha deliberato con efficacia immediata che è vietato l'accesso a tutte le sedi del Senato, al parlamentare che non esibisce il Green Pass. Laddove si verifichi un accesso non consentito, viene irrogata immediatamente la sanzione di divieto di accesso a tutte le sedi del Senato e di interdizione ai lavori parlamentari per dieci giorni. Per tali ragioni il Consiglio dispone con efficacia immediata l'irrogazione della sanzione sopradescritta alla senatrice Bianca Lauro Granato.